Avrà anche un giardino zen con tanto di cascatella il forno crematorio che aprirà a fine luglio a fianco del cimitero urbano. Una struttura di 1200 metri quadrati che ospiterà un forno all'avanguardia sale commiato uffici amministrativi progettata, costruita e gestita dalla società Osiride che ha investito 3 milioni di euro. Manca circa un mese al completamento dei lavori, il tempo necessario durante il mese di luglio per eseguire i collaudi e per iniziare la gestione vera e propria dell'impianto per i primi di settembre. Un impianto con un forno all'avanguardia? Un impianto con un forno all'avanguardia perché rispetto alla gara d'appalto è stato modificato il progetto, abbiamo scelto un forno di marca italiana che al momento sul mercato è quello che di meglio ci possiamo permettere. Le emissioni comunque saranno compatibili alle normative vigenti e che comunque sono risibili rispetto a una caldaia di 50 anni fa o 30 anni fa. Un edificio voluto fortemente dall'amministrazione comunale. È una struttura che mancava nel nostro comune ma anche nella nostra provincia, una questione di dignità, una questione di un luogo dove si potranno fare delle cerimonie sia da un punto di vista religioso cattolico ma anche laiche o di altra religione con una sala del commiato per chi volesse utilizzarla e un giardino in cui disperdere le ceneri per chi volesse fermarsi qui, insomma lasciare il proprio caro qui. Una cosa che ci viene chiesta molto spesso, mi viene chiesta molto spesso dai nostri concittadini che si vedono obbligati ad andare in altre città a portare i propri cari ad essere cremati quando finisce il ciclo della vita e quindi è una struttura che per noi è importante. Grazie. 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 Grazie.